E' andata in onda l'ultima puntata di Jump, stasera mi tuffo, condotta da Teoma Muccheri su Canale 5. Vincitore Stefano Bettarini, che si è giudicato la Coppa di Re dei Tuffi. Secondo posto al modello brasiliano Bruno Cabrerizo, terza la bella e brava Maddalena Corvaglia. In palio anche i 50.000 euro, vinti dunque dall'ex calciatore, che si è tuffato, ricordiamo, da un'altezza di 10 metri. Devolverà questa somma in beneficenza. Ospite della puntata, Tania Cagnotto, oro olimpico, che ha fatto parlare di sé ultimamente anche per delle foto molto sexy per la rivista Playboy. Si è cimentata comunque con un tuffo sincronizzato in coppia con Francesca Dallapè, bravissime entrambe. Il programma televisivo ha ottenuto ottimi successi di pubblico con l'immancabile simpatia del giudice Paolo Bonolis. E allora, non ci resta che aspettare la prossima edizione di Jump, stasera mi tuffo.